salve a tutti benvenuti in una puntata di questa serie su bardoos gate 3 mentre sta andando nel caricamento si è un po po così al volo ecco mi viene ciò ragionare con voi su una cosa nel senso io non so letteralmente da dove andare dove dobbiamo andare in posto dobbiamo andare in determinato posto e non so cosa fare nel senso se ci vado qual è fatto che credo che probabilmente io debba cambiare il party cosa del party io lo devo cambiare cioè caro mio ho un paio di genti che mi risultano abbastanza inutile io onestamente onestamente io porterei carlac è fatto che se i viaggiatori o qua c'è recano acqua c'è allora ho preso una roba è ok spesso dati un attimo allora dov'è inventario dov'è inventario che era personaggio o allora io avevo preso una roba che non dovevo allora questa cosa azioni e manda l'accampamento anche ascoltare a campo aspettate un attimo un po di cose devo allora qua forza alchimista direi direi ok con le chiavi no forse si poi poi altro cosa mente schiavizzata e mente schiavizzate ne ridiamo il resto delle robe allora io sto scudo e quest'altro scudo francia di guerra dell'assoluta addirittura io farei anche che questo un po di robe gli ridiamo qua c'è un nemico e me incastonato allora queste cose no anzi niente no 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 tanto che non mi appesantiscono queste cose vabbè ora io cosa che farei onestamente caro starion si si ok e pensi che rimani per un po ok resta qui e basta non soffrire allora carlac carlac ce la vedo allora e pensate allora forza dobbiamo andare ok aspettate che qua ok andiamo qua e al com'era or livelliamo livelliamo la tizia da capo da livella perché perché l'altra volta non mi ricordo neanche un fatto l'altra volta che accetto anche il vento va bene questo deve menare come poche volte nella b questo deve menare tanto menare tantissimo io direi anzi continua 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 vuole dell'orso dell'acqua allora vuole cos'è mentre se mi puoi usare la ferocia della resa diventire risente a tutti i danni scusi i danni psichici ok va bene poi lignaggio va bene accetto tutte cose perfetto ok mi addirittura e allora ok un altro sempre questo va bene ok aumento caratteristica caratteristica allora iniziativa punti ferita no allora attore lerta carica utilizzare carica attacco un'arma e carica respinta offerto di palestre e se entro una volta di una creatura assieme non ti impone svantaggio ti colpire attacchi a distanza effettare con la palestra la doppia la durata no maestro nel mio possenti allora quando un tuo attacco ok mi esce un colpo critico uccide una creatura un altro attacco inizia come azione bonus perfetto questo deve menare poi qua c'è tante cose va bene ora vespa va bene allora discorso è uno io onestamente io onestamente mi porterei lui cuore scuro tanto 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 carina tanto tanto bellina tanto carina ma non mi sembra proprio ciò che mi serve credo sia ciò che mi serve in battaglia io ho bisogno di gente che mena tanto le cure ce le possiamo comprare allora guardiamo io ho ti cercherò qui se avrò ancora bisogno va bene ok ok benissimo un attimo ora mi ha dato l'arte fermati allora 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 l'artefatto misterioso ah mi ha dato mi ha dato forse il suo artefatto mi sembra me l'ha dato a me l'ha dato a me ok va bene però io ora caro alzin io onestamente alzin non mi pare uno bello 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 allora eh puoi andare da se mi dici da parte ah questo lì allora sta cavando qui l'accampamento ok 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 allora bene non fammi sapere ok va bene però vorrei eh questa medizione ma se io invece voglio dirti portarmelo con me questo mino qua ah ah ok 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 come la torri ok non posso portarmelo con me sì ok non posso portarmelo con me questo qua abbiamo capito questo non posso portarlo non eh niente non posso portarmi non posso portarlo con me quindi allora metto in qualche modo niente io pensavo di potermelo provare niente ehm cosa ehm ehm allora uniscite a me vabbè e niente torna con noi niente torna con noi e noi andiamo e noi andiamo allora ehm io ho iniziato a dire lascia l'accampamento intanto lasciamo l'accampamento stra rialzata riposo di di wakanda qua allora eh accampamento goblin allora il fatto è questo passo lontano andarci passo lontano non possiamo andarci perché ci sta ci stanno cip e chop ci sta quella gente lì che non è che non è che abbiamo capito parla cosa succede eh ah 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 beh me lo sto dicendo in tutti i modi sembri avere un buon istinto di sopravvivenza di sopravvivenza chi sei tu ah ok ok come just follow you around i go my own way alone oh rag that's it i'm getting out of here ok cosa cosa ah questa va bene sequenza abbiamo visto già più volte trago arriva dunca tutto distrutti tutto ponte saluta ah 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 ok 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 question kill then move on find the weapon our queen watches stay clear of those gifts even the blade of frontiers has his limits oh and they are there Stanno lì Vabbè Abbiamo capito signori Quindi qua non si passa Ok Io ho gente che mena In vario modo In vario titolo No sto andando da sbagliato Fermi 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 Sto andando da sbagliato Allora Ma Qua no Io quasi al massimo Io quello che farei adesso E E andare al boschetto No dintorni qua c'è la cosa No Al boschetto di smeraldo Viaggio rapido Allora Dintorni del boschetto di smeraldo Dai Io altrimenti tornerei dentro All'intorno in boschetto di smeraldo E mi munirei di tante pozioni Tante pozioni Ma tante Ma tante 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 Sapete quante Tante No proprio tante Proprio tante pozioni Tipo mille monete Spenderei tutte Spenderei tutte in pozione Ma cosa c'è Ok Ah sto dentro l'accampamento Va bene Ok Pensavo che fosse più lontano Qua c'è Caga Andiamo con Caga Sempre positiva Caga Allora Hai pozioni belle Ok Ok Ecco è qualcosa di buono Allora Pozioni Te le prendo tutte Pozioni guarigione Te le prendo tutte Hai qualche altra cosa di curativo Qualche pergamena Direzione di pensieri Te so Te so Te so Fino Di scuro visione Pergamena di unto E bellissimo Pergamena di unto Presumo che sia Di tovaglioli Che al mcdonald Ecco Io vengi a pensare a questo Pergamena di unto Pergamena di Vedere invisibilità Ma ne si casca Ma ne si casca Poi Strumenti Di disarmo Vedere il consenso A chi in cui Di attivare trappole Passare su una prova E rapidità di mano Vabbè Ok Allora 1-8 La storia del cucciolo Di drago dorato Invece qua Sti guanti Allora Acchiappa proiettili Puoi intercedere proiettili Degli attacchi a distanza Con arma Con arma E ridurre lo danni Di Un di 10 Più il tuo modificatore Di destrezza Allora All'assoluta Quando compisci una creatura Con un attacco Di mischia Imponibile una penalità Per A Ai tiro colpi Compensare Rapi di mano Più uno Che vuoi fare questo E dipenderei questo Già tutto Da Bruno Vespa La tena all'assoluta Ieri Ieri L'otto Sì Poi Poi Arco Intanto fammi vedere Un attimo Arco 1 2 La balestra Magari può servire E poi che faccio Allora Questa cosa da qua Da qua Io ho cose meglio Quindi Questa messa Mette glielo do E questo glielo do Qua C'è la destrezza Limitato Più due Armatura media Invece questo qua Armature Invece quella D'armatura Di sette di ragno Vantaggi di prezzo Vantaggi di prove Di riservi Su costituzione Vombe cautela Non le prove Di furtività Vendolo Questo Io lo do Questo Do via Nello con granato Ah Mettiamo La fibrilla Incessantemente Mettiamo Asmeraldo Vabbè Fendi Mi sa che non fanno niente Ti parli di cuoio A cas A casissimo No E poi Diario Il guaritore Diario Un guaritore Del paese Note di una Veggente C'è tutta una serie Di robe Allora Tenaglie E macchiate Di ruggine Quindi io gliele Do Un mestolo Io lo do Mette schiavizzata Gliela do E anche questo Glielo do Interiora Massi Mi sto tipo Rifacendo i soldi Praticamente Allora Ok Poi Cosa abbiamo Qui Allora No se chiavi Non le devo aprire Per i fatti Allora Formaggio Water Di marcia Più pericoloso Che commestibile Uso singolo Ciao Pesce marcio Ciao Olio della precisione Bellissimo Olio della precisione Veleno draw Boh Un'arma che può essere rivestita Vabbè Allora Io V Ma qua ci sono altre cose Wiggle C'è altre cose Qua c'è altre Carlac Cuore oscuro Sono le frecce Va bene Giavellotto La compensa Ma senti Giavellotti Spezza fede A dito Incantamento All'arma Più Due unici danni Queste tre unici Sempre meglio Bazzone al cucciolo Dorato E' sempre meglio Però Sai che cosa c'ha lì Cosa Machini Ma Machini Ma anche Incantamento All'arma Più Ma volta Per riposare Quando Machini Versare questa arma Poi avvolge Luminescenza In competenza Quest'arma Sblocca Che requisite Con me Grazie Ti ringrazio Sentitamente Ehm Ok Ci sono altri Mercanti Qualche altra parte Vi chiedo Allora La situazione E' quella che è Ok La situazione E' quella che è Siamo 22 minuti Che non ho fatto Praticamente Niente L'unica cosa Che ho fatto Qua E' stata E' stata Diciamo Vedere un po' La situazione Che l'unica cosa Che ho fatto E' stato Quello Boschetto Di sberaldo Qua ci sono Alte robe Devo andare Lì E mi section Dall'underdark Proviamo ad andare Villaggi Romina Proviamo Proviamo Vediamo se Villaggi Romina Romina Si Power Se a Villaggi Romina Succede Qualche altra cosa Allora Ehm Ehm Ok 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 No Qua Si Ah Sono sempre Quei cosi Che Parla Un tra Di loro Parla Un tra Di loro Qua ci siamo Guadagnati La possibilità Di star Tranquilli Allora Mi ricordo La prima volta Venuti qua Abbiamo Ammazzato Un po' Di genti Per un po' Penso Per un po' Dovremmo Il fatto è che Puro Siamo costretti Quanto Si ha Si ha Diciamo Un compito Arduo Che ci siamo In testa Di compiere Temo Che Cassa di legno Non c'è niente Allora Allora Vediamo E quello che dovremmo fare Sarà 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 A combattere Tutti Ma Non Un po' Alla volta Allora Ok Allora Cuore scuro Io direi Dardo di poco Leggermente ubriaco Nice Posto così Caro Spaccone Allora Posso Posso Lui Lui Dato di foco Vai Ovviamente Gli altri Non è che Non ci sono Ah Gli altri Non ci sono Non li vedo Dardo di foco 1.10 Caratto Il mercato Il voto Mezza Leggermente ubriaco Andiamo di qua